Niente tenda per il triage dei pazienti sospetti ma percorsi dedicati, adeguamenti delle strutture e delle apparecchiature, reclutamento straordinario di infettivologi e medici di igiene e sanità pubblica. Queste le azioni intraprese dalla ASL Lanciano Vastochietti per affrontare il coronavirus e presentate ai sindaci del Comitato Ristretto, invitati per fare il punto sullo specifico argomento alla presenza dell'assessore regionale alla salute Nicoletta Verini. È necessario adeguare con urgenza il pronto soccorso e la reanimazione di Chieti e mettere a norma i posti letto a pressione negativa dell'Unità Operativa di Malattie Infettive di Vasto. La Direzione Generale ha scelto di concentrare eventuali casi più gravi a Chieti per consentire agli altri ospedali della rete aziendale di continuare a svolgere tutte le normali attività assistenziali, sia ordinarie sia urgenti. Dopo il primo filtro attuato sul territorio dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, anche il supporto degli operatori del numero verde attivato dall'ASL 800, 860, 146 nella fase successiva entra in gioco l'ospedale. Al Santissima Annunziata sono stati strutturati percorsi dedicati e differenziati per raccogliere eventuali pazienti che si presentino spontaneamente in presenza di sintomi o che siano qualificati come sospetti, fin dal primo contatto con il pronto soccorso che filtra e differenzia l'ingresso e il successivo percorso degli utenti in base alle condizioni cliniche di ciascuno. In caso di paziente fortemente sospettato di avere contratto il virus, i primi accertamenti vengono eseguiti in stanze allestite all'interno dell'area dedicata. Il ricovero avviene poi in malattie infettive oppure rianimazione per i pazienti più critici che necessitano di terapia intensiva. A questi casi sono stati riservati due posti letto in isolamento a pressione negativa con protezione massima per malati e operatori.